Prego, accomodatevi. Prego, da questa parte. Te? Sì, dallo a me. Il dottor Berlusconi tra un attimo è qui da noi. E quindi, come ci vanno a fare un alledizio del dottor Berlusconi? Sempre bene? Bene, grazie con te, amici miei. Molto bene. Stefano sta costruendo tutta una città, la chiamerà Milano 2, robetta seria. Senti che ha fatto? Praticamente ha fatto spostare tutto un aeroporto. È perché il rumore degli aerei deprezzava il valore degli appartamenti. È forte, è bravo. Sai che si è inventato Stefano? Ha regalato un pezzo di terreno a Don Verzee, hanno fatto l'ospedale, il San Raffaele. Così può dire che gli aerei disturbano i pazienti. Te l'ho detto, ci sa fare, si sa muovere, è bravo, è un genio. Un genio, un genio. E questa è la storia delle minacce che gli sono arrivate ai figli. Questa è una cosa brutta. Gli hanno detto addirittura che gli volevano far trovare la testa del figlio su un vassoio. Minchia, pesante. Ma che siamo stati noi o i calabresi? A me lo chiede. E all'oltre è stato. Eccomi, scusate il ritardo, però c'è il traffico. Non è una scusa, lo giuro sulla testa dei miei figli.